La regola è esattamente come prima, sono 12 giri, la regola prima è arrivata nel 13, poi la regola è principale, i bugi. Intanto si preparano per farlo bene le vie femmine, vediamo i primi punti, numero 12, 211, 140 diamo a 16, 14, 45, 48, 49, 49, 49, 49, 50, 49, 49, 49, 50, 50, 50, 10 perché l'anno? perché sei un po' sforzata 211, 170 senti qua sotto eh? perché rimane qua? non voglio per capire un minuto per una giocatorezza e qui lalla e qui lalla hai visto qua che non è venuto lalla? hai visto qua che non è venuto lalla? e questo cantina guarda Rinaldo a prima con la rinno di Cassano c'è una rinno è terminato con la rinno ho terminato un minuto 211, 56 e gli ultimi a prima il gruppo è ancora compatissimo, quindi il gruppo è ancora in gioco per questa finale, il gruppo è ancora compatibile, 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 è ancora compatibile, il gruppo 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 è ancora compatibile,